Musica Difficile la situazione umanitaria nel campo profughi di Idomeni. Strage di cristiani in Siria, almeno 21 vittime dal Quariatein Panama Papers, bufera ai vertici politici ed economici mondiali, allarme di Amnesty International sulle esecuzioni e il numero più alto da oltre 25 anni. Ben trovati all'appuntamento con il Tg Mondo, notizie dai 5 continenti, di tensione ma senza altri incidenti nel campo di Idomeni in Grecia. Il giorno dopo gli scontri con la polizia, gas lacrimogeni e granati assordanti sono partite ieri dalla Macedonia su 500 migranti che cercavano di superare le recinzioni del confine sbarrato da settimane. Decine i feriti, centinaia le persone intossicate, tra loro anche molti bambini e donne, raggiunti nelle tendopoli dal fumo tossico per via del vento. Ha lasciato la borsa inesplosa all'aeroporto di Zaventem, poi prima di rientrare a piedi nel centro di Bruxelles, si è sbarazzato della giacca bianca, gettandola tra i rifiuti e del famigerato cappello che avrebbe venduto. Questi particolari ammessi da Mohamed Abrini, il 31enne di origine marocchina, è arrestato venerdì e sospettato di essere il terzo uomo ancora ricercato per l'attentato del 22 marzo scorso. Per lui e per le altre tre persone fermate sono state formulate le accuse di partecipazione a gruppo terroristico e omicidio a scopo terroristico. Ma ci sarebbero altri particolari inquietanti emersi dalla sua confessione, ad esempio che nel mirino dei terroristi il 22 marzo c'era ancora a Parigi. Poi su Bruxelles, obiettivo ritenuto più facile vicino, si è ripiegato dopo la svolta nelle indagini che condussero all'arresto di Salah Abdeslam appena quattro giorni prima della data prescelta. Abrini, che era stato in Siria nell'estate dello scorso anno, avrebbe partecipato anche agli attentati di Parigi del 13 di novembre. E in Siria almeno 21 cristiani sono stati uccisi dai giudisti del sedicente stato islamico a dal Qariatin nella parte centrale del paese. Lo ha rivelato in un'intervista il patriarca siro ortodosso di Antiochia e di tutto l'Oriente, Ignatius Safrem II, aggiungendo che in questi ultimi mesi la cittadina assiro cristiana ha subito pesanti devastazioni. Un antico monastero è stato ridotto in macerie. E tempesta internazionale sul mondo finanziario e politico a seguito del Panama Papers. L'inchiesta che ha rivelato in oltre 11 milioni di file un colossale giro d'affari finalizzato all'evasione o l'illusione fiscale e al riciclaggio di denaro coinvolgendo più di 200.000 società offshore con sede in 21 paradisi fiscali sparsi nel mondo che gestiscono gli interessi di centinaia di migliaia di persone influenti in diversi ambiti ai più alti livelli con la complicità di banche e studi legali. E' un problema globale ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Ed è sempre instabilità politica in Spagna. Socialisti, Ciudadanos e Podemos non riescono a trovare un'intesa sulla formazione di un governo a quattro mesi dalle elezioni. Se non sarà formato un esecutivo entro il 2 maggio saranno convocate nuove elezioni per il 26 di giugno. Il leader del partito antisistema Pablo Iglesias ha lanciato una consultazione tra i suoi iscritti sulla partecipazione di Podemos al governo con i socialisti di Pedro Sanchez e i centristi guidati da Albert Rivera. In Perù adesso Keiko Fujimori vince il primo turno delle elezioni presidenziali. La figlia dell'ex controverso presidente Alberto arriva al balottaggio del 5 giugno con circa il 39% dei voti e un ampio margine sul rivale l'ex ministro conservatore ed ex economista della Banca Mondiale Pedro Pablo Kucinski. Il padre di Keiko si trova in carcere dove sta scontando una condanna a 25 anni per corruzione e violazione dei diritti umani. In India la giustizia indiana ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato sabato nel tempio hindu di Putingal nello stato di Kerala durante uno spettacolo pirotecnico non autorizzato. L'ultimo bilancio della tragedia parla di almeno 110 morti e quasi 400 persone rimaste ferite. Sono al momento 75 le vittime identificate e l'incidente è avvenuto in occasione dei festeggiamenti del nuovo anno hinduista. E di padre Tom Unznalil il sacerdote salesiano rapito in Yemen dai primi di marzo ho ammirato fin dall'inizio il suo coraggio e la sua accortezza in tutte le situazioni ben consapevole dei rischi che correva era però pronto a subire questo destino. Tuttavia speriamo con tutto il cuore che possa essere strappato alle mani dei suoi rapitori. E quanto afferma ad Asia News Monsignor Thomas Menamparampil arcivescovo salesiano attuale amministratore apostolico di Jovai ed emerito di Guati in India. Le spese militari nel mondo sono cresciute dell'1% nel 2015 portando il totale a circa 1.700 miliardi di dollari. Una fetta consistente di queste spese avviene in Asia con Cina e Arabia Saudita ai primi posti nella classifica mondiale. E quanto emerge dal rapporto diffuso dal Sipri specializzata in queste statistiche il Sipri riferisce all'agenzia Asia News fa notare che l'incremento di quest'anno avviene invertendo una tendenza che durava dal 2011. La crescita è consistente in Asia e Oceania nell'Europa centrale e in Medio Oriente ma diminuisce in Europa occidentale in Africa e in America Latina. E il 2015 ha segnato anche il numero più alto di esecuzioni da oltre 25 anni. È il drammatico dato diffuso da un rapporto di Amnesty International che però rileva che anche 102 stati e quindi la maggioranza nel mondo risultano abolizionisti per tutti i reati. Sentiamo il servizio di Radio Vaticana e il nostro approfondimento di questa sera. Iran, Pakistan, Arabia Saudita nessuna novità ai primi posti della lista dei paesi con il più alto numero di esecuzioni. Da soli questi tre sono stati responsabili di quasi il 90% delle morti conosciute a seguire gli Stati Uniti. Nessuna novità neanche per i reati che prevedono la pena capitale. Traffico di droga, corruzione, adulterio e blasfemia. 1.634 i prigionieri messi a morte nel 2015. Il doppio rispetto all'anno precedente è il numero più alto registrato del 1989 ma purtroppo un dato per difetto perché non comprende la Cina dove si ritiene che le esecuzioni siano state migliaia ma tutte secretate. Si continua quindi in molti casi a ritenere che la pena di morte rende il mondo più sicuro. Un falso assunto precisa Salil Shetty, segretario generale di Amnesty International che però precisa come fortunatamente gli stati che ancora eseguono condanne a morte siano una minoranza. In quattro nell'anno passato hanno abolito la pena capitale Fiji, Madagascar, Repubblica del Congo e Suriname. Resta però il fatto che chi la mantiene ancora continua a farlo in modo massiccio e spesso al termine di processi farsa, iniqui e irregolari. Il numero dei paesi in cui si è proceduto ad esecuzioni è salito dai 22 del 2014 ai 25 dell'anno scorso tra quelli che le hanno riprese anche il Chad dove non si registravano da oltre 10 anni. A questo si aggiunge un considerevole aumento in Egitto e Somalia. Il 2015 è stato un anno di estremi conclude Shetty abbiamo assistito a sviluppi inquietanti ma anche a passi avanti che danno speranza. La maggioranza del mondo è quindi la conclusione abbandito la più orribile delle pene chi ancora persegue nella pena di morte deve rendersi conto che si trova dal lato sbagliato della storia. Ed è tutto per questa edizione di TG Mondo l'informazione dai 5 continenti torna settimana prossima. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.